Qualcos'altro su Pirandello. Le fasi della carriera di Pirandello e dell'opera di Pirandello si dividono normalmente in cinque periodi. Il primo periodo che va dal 1892 al 1903 è il periodo dell'apprendistato in qualche modo. Pirandello ha ancora un forte legame siciliano non solo per quello che scrive ma anche proprio per la sua stessa vita, per la sua stessa esistenza. In particolare il legame letterario è fortemente legato a Capuana. Seconda fase è quella del 1904 fino al 1915, fino alla guerra, in un certo senso che è l'epoca delle più importanti novelle ed è soprattutto l'epoca, come vedremo, dei romanzi, in particolare del fuo Mattia Pascal che è il testo che a noi interessa. La terza fase che va tra il 1916 e il 1920 è invece il momento in cui Pirandello si avvicina evidentemente e con grande successo, con grande capacità effettivamente organizzativa e strutturativa al teatro e alla produzione in un certo senso di testi letterari per il teatro. Tra il 1921 e il 1929 Pirandello produce i testi più importanti, i tre fondamentali testi del teatro nel teatro, i sei personaggi in cerca d'autore, questa sera si recita il soggetto e ciascuno a suo modo. E sono gli anni questi, diciamo, del fascismo iniziale, di grande successo anche internazionale del teatro di Pirandello, oltre che di grande curiosità evidentemente per un autore così nuovo, così rivoluzionario, così straordinariamente innovativo. E l'ultima fase che è quella proprio del fascismo imperante tra il 30 e il 36 è l'epoca in cui appunto il teatro di Pirandello porta alla sua più alta realizzazione e anche evidentemente alla sua chiusura mitica, perché le ultime opere del teatro di Pirandello, in particolare l'ultima che poi è pure incompiuta e si chiama I giganti della montagna, va sotto il titolo di teatro mitico. I personaggi di Pirandello, sia quelli del romanzo, sia quelli dei racconti, delle novelle, sia quelli del teatro, non sono e non hanno assolutamente più una unica identità. Sono personaggi pluricaratteriali, sono personaggi che possono avere, voglio dire, punti di vista infinitamente diversi. Ricordiamo che ogni personaggio è di per sé una forma, è una maschera sociale che la società mette addosso al personaggio, per cui fondamentalmente il personaggio effettivamente vive di quella maschera e con quella maschera senza sapere nemmeno che la sta portando. Nel momento in cui invece il personaggio, a causa della folgorazione, perde quella maschera dal suo volto, il personaggio entra in crisi non sapendo più, non riconoscendo più evidentemente la propria identità. Il personaggio di Pirandello lotta sempre contro, come dire, l'immagine che deriva dagli altri, quindi contro la propria immagine sociale. Tutti i personaggi di Pirandello, proprio perché l'arte di Pirandello è umoristica, sono personaggi ragionatori, cioè sono personaggi che usano la riflessione. Non sono assolutamente, come dire, non hanno assolutamente in un certo senso una bellezza esterna, una poesia in qualche maniera, sono personaggi che hanno lo scopo di dimostrare effettivamente quanto sia vuota e fondamentalmente alla fine falsa la vita normale di un Borghese. Talvolta il personaggio, anzi non talvolta ma sempre il personaggio, va ben oltre i limiti, l'immagine, la maschera evidentemente della propria realtà interiore, dimostrando in qualche maniera che quello che agli altri sembra follia o sembra evidentemente irregolarità, in realtà è il sintomo di un dolore profondissimo o di una enorme straordinaria incapacità di vivere in qualche maniera. Ecco perché l'arte di Pirandello è un'arte fondamentalmente umoristica, è un'arte che supera l'apparenza, il famoso avvertimento del contrario per arrivare evidentemente ad analizzare la realtà di quel personaggio. E però l'arte di Pirandello, ripeto, è un'arte che tende a far provare pietà per quel personaggio. Noi non ridiamo di un personaggio che si trova in una condizione di particolare sofferenza ma soffriamo insieme con lui. In qualche modo ridiamo versando lacrime per lui perché abbiamo capito e perché ci rendiamo conto delle ragioni della sua sofferenza.